Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, un altro video outfit, parecchio che non ne facevo e che non sono scesa molto, poi il tempo... Prima hai fatto un taddo di pazzi, poi ha fatto un freddo di pazzi, quindi non sapevo come vestirmi e quindi non ne ho fatti molti. Oggi diciamo che è il primo sabato estivo, anche se devo prendere il motorino, quindi sono vestita un pochettino più pesante rispetto a un sabato sera estivo più caldo. Allora, prima di tutto il trucco, è un trucco semplice, sui toni del celeste e del blu nella piega, con il blu anche sotto l'occhio, viso abbastanza naturale anche se ho messo il fondotinta, leggero contouring, un bell'illuminante e un po' di blush per dare vita. Sulle labbra, come vi ho detto nel video del tag che ho fatto prima di questo, ho usato l'ombretto in crema della Kiko sulle labbra, poi il gloss trasparente per amalgamare e questo è più o meno il risultato. Si vede malissimo perché è sera, quindi ho le luci giallognole, non si vede un granché, però non ho le labbra blu. Come accessori ho il mio cuoricino a metà, la mia fedele fedina, poi ho un paio di orecchini piccolini a forma di cuoricino con pietrina azzurra, queste me le regalarono un miliardo di anni fa, ero neonata forse, anello anch'esso con pietrina azzurra e questa collana che non si vede molto, comunque ha degli scarabèi e delle, oddio, come ti chiami? Dovrebbe essere la maschera di, comunque la maschera egizia, la maschera di, vuole essere tutta un camon? Non mi ricordo, comunque è molto estiva, molto carina in celeste. Allora, sotto ho questa maglia che finisce, dopo vedete, è abbastanza lunga però va rimborsata, è trasparente, con manica sbuffante, però che viene tenuta ferma sopra il guomido da un elastico, quindi così, l'ho lasciato un po' a scollo a barca, sotto ovviamente essendo trasparente c'è un top celeste, ora ve lo faccio vedere, semplice top celeste, è anche corto, cioè non è di due vasodumidi come ci sono per questa altra maglia, è a motivi floreali tra blu, marroncino, azzurrino, è carina, non festiva. Ecco, finisce, l'ho fatta finire più o meno poco sopra il sedere, stava comunque un pochino più morbida, giù ho messo semplici jeans leggeri, niente di particolare, blu, sempre blu, ai piedi ho questi sandalini, fatti così, lacciati alla caviglia, in tessuto jeans e nastrino di raso, con un po' di zeppa, molto carini, e il jeans lo lascio scivolare sopra così. La borsa che ho deciso di ridossare è sempre in jeans, con rifiniture e fili all'interno dorati, piccina ma non esageratamente piccola, è abbastanza capiente, è carina, e dentro oggi ho da mettere anche il mio ventaio, faccio la signora palmetta che stasera. Comunque questo è il look completo, il look completo. Io spero che vi piaccia, niente, alla prossima, un bacione e buone estate a tutti. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!